Paolo Maffioletti, responsabile tecnico del settore giovanile della Comarco, una partita questa mai in discussione? Sì, mai in discussione, bravi ragazzi a mio avviso a reagire in maniera giusta dopo la sconfitta di Urania. È chiaro che quando vai al termine del primo quarto, 31-14, 60-30, alla fine del primo tempo, tutto si mette nel verso giusto e quindi una buona reazione dopo la sconfitta di Urania e soprattutto in vista delle due partite importanti a 100 e poi in casa con Piacenza che tanto vorranno dire anche per la classifica. Esatto, noi abbiamo visto anche nell'intervallo la presentazione di quelle che sono le squadre del settore giovanile della Comar, BB14 e Virtus Isola. Dacci tu qualche parola in più visto che sei appunto il responsabile di questo settore giovanile. Sì, abbiamo presentato le sette squadre che quest'anno giocano come Bergamo Basket 2014 o come Virtus Isola ma di fatto sono la stessa cosa e che si alternano nei vari campionati regionali d'eccellenza e di elite e in più abbiamo presentato anche una squadra a quilotti in questo caso del Villaggio Sposi che è una delle società che collaborano con noi al nostro progetto e in rappresentanza di tutte quelle realtà che hanno deciso di affidarsi a noi per quanto riguarda la crescita dei loro ragazzi. E i risultati credo non tardino a mancare. Guarda, finora a metà stagione siamo molto contenti perché tutte le squadre stanno un po' rispettando quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Per cui è chiaro che siamo felici e speriamo che nella seconda metà di stagione si migliori ancora e che magari i risultati possano anche essere superiori alle aspettative. E che qualche giocatore tra pochi anni possa vestire la canotta della prima squadra. Assolutamente sì e colgo l'occasione per ricordare che oggi, negli ultimi minuti di partita, hanno giocato due classi 1998 e 1999. Per cui segnale forte che a livello giovanile se si lavora bene comunque poi i risultati si ottengono. Grazie mille Paolo. Figurati, grazie a te.